Da volte vedi la comodità del riconoscimidero vicino a casa. Un po' come dire da produttore al consumante. Quello di più nessuno si attrava a dire quella quotidiana. Ma domani ci veramente? Non ho tentato a dire domani. Posso andare dopo del barrio? Non dici tu quando? Visto, ma non c'è un robo. Non c'è un robo. Non c'è un robo. Non c'è un robo.